il falegname c'ha da lavorare uno piccolo sforzo allora qua bisogna collaborare perché il legno è una cosa naturale di tutto per il respiro di tutto non ce ne vuole di queste cose vecchie e moderne ci vuole cose belle viva la tradizione dei falegnami speriamo che si vada sempre così avanti se no andiamo giù vedete di grotta in grotta e vedo cosa fanno le mozzarella qui fanno le pettole poi con un buon vino che fa da contorno dicevamo il buon vino buon vino locale quindi abbiamo tantissime cantine locali che ci offrono questo fantastico vino e quindi possiamo anche saggiare non fa male grazie a tutti grazie a tutti